Questo è il finale di stamattina, all'alba delle nove, la signora è venuta con il capello trattato scuro e io l'ho trasformata, gli ho fatto delle sfumature a degradé, ho lavorato molto nella punta, gli ho sforzato i capelli e la cosa bella, guardate che le mani entrano nei capelli, è una cosa stupenda perché vuol dire che il capello è sano, senza la decorazione, la cosa più bella, abbiamo saltato il famoso passaggio tonalizzante che è molto importante, guardate la punta, sano, capello crespo, la punta l'abbiamo rinata, l'abbiamo anche dato la leggerezza perché la signora ha tanti capelli, meno male, e quindi abbiamo dovuto lavorare, arriva da lontano anche lei, gli abbiamo ottenuto la promessa, com'è questo lavoro? E' bellissimo, come ti sei trovata, la tua esperienza? Bellissimo, ve lo consiglio a tutti, è veramente bello, ho cambiato look senza sfaccettature, noi manteniamo la promessa perché è giusto che sia così, essendo una specialista di colore guardiamo molto il dettaglio, guardiamo il biondo, è giusto per la mettonalità di pelle, bello, abbiamo sfumato, non è troppo chiaro, non è troppo scuro e giusto cambio look, ok, mi fa piacere, grazie mille, grazie, quindi lo consiglio alla gente che non ci conosce, lo consiglio, è bellissimo, amiche venite qua, grazie tesoro, è proprio bello, grazie,